Come raccontato all'inizio trasmissione, ora spazio a Micotap, un progetto per abbattere le micotossine del mais. Si è chiuso nelle scorse settimane il progetto Micotap, iniziativa finanziata da PSR di Regione del Veneto, che ha visto come capofila col diretti Treviso. Obiettivo del progetto è controllare le micotossine nel mais, sostanze naturali prodotte da alcuni funghi che, in condizioni a loro favorevoli, possono svilupparsi nell'interno di gran parte dei nostri alimenti. Il progetto prevede infatti 90 lotti, quindi 90 parzioni di terreno seminate in maniera diversa, seminate quindi con prodotto con una varietà di seme diversa e il seme che è stato utilizzato è stato conciato in maniera differente. Le spieghe raccolte sono state valutate sia visivamente sia in laboratorio per constatare lo sviluppo di muffe. Ad emergere, dopo quasi tre anni di sperimentazione, una strategia che parte fin dalla semina della coltura. Una strategia vincente è quella di trattare il mais, soprattutto all'atto della semina, quindi come concia, come conciante. Un vantaggio di questa tipologia di approccio di contenimento delle micotossine è quello di darlo una sola volta come prodotto all'atto della semina o come conciante del seme per vederle gli effetti, diciamo, sulla parte aerea. Un seme conciato con microorganismi benefici che, oltre a promuovere lo sviluppo della pianta, inducono una risposta sistemica di tipo difensivo. L'orientamento è che la difesa del mais deve andare in una direzione più sostenibile che eviti, appunto, l'utilizzo di sostanze chimiche a favore, invece, di agenti viventi. Interazioni che si sviluppano nelle parti basali della pianta ma che permettono una difesa da micotossine anche della parte aerea. Il microorganismo non c'è nella parte aerea dove c'è la difesa. È la pianta che deve rispondere e quindi rispondere mitigando lo stre, migliorare, aumentando il benessere, nello stesso tempo mettendo appunto geni di difesa più efficaci, ma questi dipendono anche dalla varietà.